Si celebra oggi in Italia la giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie. In occasione della giornata sono organizzate in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative che rafforzino negli adulti e creino nei giovani una memoria condivisa sulla lotta a tutte le mafie.